buongiorno a tutti ho appena finito un'altra diretta per finanza online con alexandra george va quindi non so se qualcuno di voi ha già visto anche l'altra diretta e in ogni caso magari ci ripeteremo su un paio di passaggi qua in alto sinistra performance della giornata con lo spread che si allarga la variazione più grossa che vediamo è appunto quella dello spread più 2,03 per cento per il resto il petrolio che rimbalza più 0,92 per cento ma rimane sotto resistenza ancora in lateralità euro dollaro che non si ferma però c'è l'1,095 resistenza che ho segnalato poco fa nell'altra diretta che è un ostacolo tosto già da alcune sedute sta tenendo un po' bloccato l'euro dollaro e invece i mercati equiti europei recuperano fuzzimib più 0,59 ieri mattina spero di aver aiutato di avervi dato una mano nel vostro trading intraday nel gestire le vostre posizioni segnalando come ci fosse la possibilità di un rifracciamento nel corso giornata abbiamo visto perdite dei mercati equiti che sono andate ad aumentare è partito un po' uno storno e avevamo visto ad esempio il key reversal ribassista che c'era formato sul fuzzicento abbiamo smaltito un po' di ipercomprato e chi segue l'HFT ha visto che stamattina sono già nei primi minuti infatti c'erano flussi in acquisto non su tutti i titoli in particolar modo sugli energetici con i titoli energetici per di cor modo Saipem e Saras che hanno avuto dei flussi abbastanza importanti infatti se andiamo a vedere i miei eseguiti io sono andato a comprare Saipem a 1,33 e 2 e l'ho venduta a 1,35 e 1 adesso sta facendo 1,34 e 1,75 e mi sono comprato anche le Saras target su Saras non ancora colpito però comunque siamo ancora in una zona abbastanza buona con possibilità comunque di raggiungerli in seguito Saipem che vede spesso flussi molto importanti sempre tra i primissimi titoli che si vedono in cima al ranking e vado a chiudere la pro real time che è un po' invadente se andiamo a vedere infatti l'HFT flow scanner dalle 9,05 si vedeva subito come Saipem si primeggiava nettamente rispetto a altri titoli e anche Prismian il secondo titolo per flussi HFT seguito da Saras adesso andiamo a impostare delle 9,45 così vediamo anche la persistenza degli ultimi 20 minuti attendiamo che si refresci che si aggiorni il tutto e intanto andiamo a vedere un pochino di grafici partendo dal Fuzzimib che vedete questa mattina ha iniziato a recuperare dopo il trend discendente di ieri ci sono in questo momento il primo supporto da osservare sul grafico a 5 minuti è questo i 25.670 con la prima resistenza statica intraday che invece è questa sui 25.790 punti a livello multiday 26.000 sono l'ostacolo che sarà da abbattere è importante che il minimo di ieri regga perché se venisse bucato il minimo di ieri scatterebbero ovviamente un sacco di stop profit ad esempio noi per quanto riguarda l'equity azionario nelle posizioni multiday abbiamo ancora delle posizioni aperte quelle che avevo mostrato ieri su Moncler, su Saipem che appunto l'abbiamo in posizione anche multiday su Leonardo, su Ferrari con stop profit che ieri non sono stati colpiti quindi siamo rimasti in posizione sui titoli che non avevamo liquidato in precedenza perché i giorni primi invece avevamo liquidato in profitto Intesa avevamo liquidato in profitto Poste eccetera eccetera quindi sui titoli rimasti manteniamo gli stop profit però sotto il minimo di ieri salterebbero i nostri stop profit quindi usciremo dalla posizione ma credo che come i nostri di chi segue le rubriche multiday scatterebbero altre prese di profitto con a quel punto il rischio di vedere un Fuzzimib che vada in direzione dei 25.200 punti quindi a cercare questo minimo qui quindi la seduta di oggi sarà molto importante perché una inversione rispetto alla chiusura brutta di ieri quindi una chiusura forte oggi vorrebbe porterebbe di nuovo ottimismo e i 26.000 punti come possibile obiettivo io non incremento multiday le posizioni per ragioni che ho già spiegato ieri perché entrare adesso è un rischio finché non viene smaltito il mercato non consolida un po' dopo aver smaltito un po' dell'ipercomprato di breve vedete come eravamo infatti con un RSI ieri mattina abbastanza alto 82 e l'ha smaltito siamo tornati a 63,96 però finché almeno qualche seduta per osservare il mercato e vedere se ebookerà questo minimo o se lo ritorna sui 26.000 punti bisogna farla e concentrare la propria operatività in queste fasi dove il rapporto rischio-rendimento non è favorevole e è long e in questo ci viene in aiuto un software come l'HFT che ci aiuta ad individuare i titoli su cui si spalmano i maggiori acquisti delle macchinette cosiddette macchinette per quanto riguarda quindi adesso vado a vedere perché si è già aggiornato le chiacchiere ecco Prismian Prismian c'è persistenza sui flussi quindi 0,9424 Prismian fortissimo anche negli ultimi 20 minuti continua ad essere in cima al ranking mentre vedete che su Saipem si sono un po' fermati gli acquisti degli HFT rimangono fortissimi su Prismian seguito da ricordati generali Ferrari Nexi Leonardo Azimut e via di questo passo vedo che mi avete scritto allora quindi a parte i saluti c'è una forse richiesta quindi un attimo che me la leggo allora domanda è fatto 100 il capitale destinato al tuo portafoglio Italia quanto percentuale si dovrebbe utilizzare per i singoli trade inoltre per utilizzare l'HFT serve solo l'abbonamento o un software particolare non serve nessun software particolare per utilizzare l'HFT perché è un supporto al trading vi dice su quali titoli si stanno spalmando gli acquisti e poi io ad esempio uso Banca Sella per seguire i segnali HFT quindi imposto i miei ordini di acquisto e vendita su Banca Sella ma potete farlo su qualunque altra piattaforma su qualunque altro broker quindi non serve nulla di particolare e per rispondere a domanda di Money Management per i segnali multi-day un 10% a titolo fatto 100 il capitale che si ha a disposizione è una impostazione abbastanza diciamo così prudenziale perché tutti i titoli contemporaneamente non capita praticamente mai che entrino tutti contemporaneamente key reversal sul Bund andiamo a vedere il Bund così lo vediamo subito andiamo a prendere i mercati obbligazionari eccoci qua sul Bund questo grafico giornaliero massimo della seduta del 18 di gennaio 140,68 massimo della seduta successiva 140,73 chiusura inferiore quindi confermo che ieri c'è stato un key reversal ribassista sul Bund che qualche effetto lo sta producendo quest'oggi quindi ribadendo quello che è stato detto ieri key reversal hanno una valenza solitamente un impatto sulla seduta successiva al massimo si estendono su un paio di sedute questo per i normali key reversal questo è un normale key reversal diversa è la situazione dei key reversal accoppiata in una situazione di forte ipercomprato quindi key reversal e ribassisti dove invece segnano spesso dei top importanti e da lì un'inversione di trend multi day anche di un certo rilievo cosa che non è accaduta qua quindi qua non c'è stata una situazione di key reversal accompagnata da un forte ipervenduto l'ipervenduto era già stato in parte smaltito eravamo sotto 70 e quindi un po' a ridosso di quella fascia che ho indicato però non sopra quindi comunque per il momento il key reversal a qualche effetto lo sta producendo perché vediamo infatti un Bund che anche rispetto all'apertura e anche rispetto alla chiusura di ieri sta perdendo poi Snam mi chiedete Snam quindi andiamo a dare un'occhiata a Snam lo do un'occhiata anche come flussi dove è posizionata Snam non nelle primissime posizioni a ridosso quasi della fascia delle vendite quindi non ci sono particolari flussi HFT su Snam andiamo invece a vedere il grafico eccolo qua allora su Snam qua massimo 5.01 massimo della candela successiva 5.014 quindi che cosa ne deducete che c'è stato un key reversal ribassista e ci siamo arrivati qua sulla prima candela in 75-78 e su quella successiva siamo scesi a 68 come valore di di RSI però comunque un valore molto alto e qua eravamo a 75 quindi segnale di ribasso e quest'oggi in controtendenza rispetto ad altri titoli energetici perde lo 0,31 quindi è un top questo che è stato toccato da Snam se avete intenzione di comprarla quindi con un segnale di questo tipo non sarebbe proprio da comprare soprattutto se dovesse chiudere sotto e lì lì ieri ha chiuso il key reversal a ridosso di quest'area di che prima è stata resistenza e ora è diventato supporto i 4,90 se oggi dovesse scendere chiudere sotto i 4,88 addirittura sotto la chiusura di ieri sarebbe un brutto segnale che alimenterebbe delle vendite probabilmente verso i 4,69 4,70 quindi se volete entrare su Snam io non c'entrerei adesso attenderei qualche seduta e vedere che cosa accade soprattutto se riesce a chiudere sopra i 4,90 oggi se siete invece investiti un trailing stop profit dinamico magari sotto il minimo di ieri per gestire i profitti se siete entrati bene nelle scorse settimane poi magari se volete nel frattempo possiamo anche impostare proprio una scansione per andare a vedere quelli che sono le situazioni di maggior rischio ribasso quindi chi reversa il down più ipercomprato sui titoli azionari italiani andiamo qua mercato azionario italiano e andiamo a vedere per oggi quelle che sono le situazioni più a rischio ribasso si può fare chiaramente anche l'opposto andare a vedere quelle che sono le situazioni con maggiore probabilità di rialzo multiday intanto vado a leggere le vostre domande Tenaris Generali CNH STM STM l'abbiamo vista anche ieri dove si era detto ieri mattina di fare attenzione per il rischio che STM potesse scendere così ha fatto noi siamo ancora in posizione multiday lo stop profit non è stato colpito quindi siamo dentro anche oggi però tra poco lo andiamo a vedere un attimo di pazienza così andiamo a commentare anche la lista dei titoli con chi reversa ribassisti in ipercomprato magari nel frattempo posso utilizzare così che non mentre Visual Trader è impegnato andiamo a vedere generali sul grafico della ProRealTime generali assicurazioni eccolo qua allora generali situazione tutto sommato ancora sotto resistenza perché questo massimo qua che è il massimo del 13 dicembre è stato sbavato nella seduta del 18 di gennaio ma la chiusura è stata inferiore non c'è stato lo sforamento della resistenza confermato in close quindi se siete long su banca generale trailing stop dinamico secondo me da gestire almeno sotto i 17 se siete flat io attenderei la rottura confermata in close di questo massimo qui che è stato toccato appunto a metà dicembre c'è il rischio della trappola apertori adesso su generali e anche qua siamo entrati siamo stati vicini all'ipercomprato non ci siamo entrati la monitorerei tra l'altro vedete che c'è quest'area di resistenza coincide guardate è stato leggermente sbavato ma c'è questo massimo qua che è un po' più alto rispetto a questo quindi è questo quello che fa da guida che è il massimo della seduta del 27 maggio 2022 che è a 17,61 quindi questa resistenza qua è tosta non anticiperei questa resistenza assolutamente che vado ad evidenziare adesso anche eccola qua non anticipare questa resistenza è un grosso rischio qualcuno qui su questa sbavatura secondo me è rimasto con magari col cerino acceso in mano e adesso sarà un po' così a rischio la sua posizione poi vediamo di tornare sulla visual trader se ha finito la scansione sì l'ha finita eccoci qua quindi banco BPM Beeper Is Automotion Grifal High Quality Food IGD Mondadori Editoriali Piaggio Sugar Friends Sol WeBuild e Wheat titoli che hanno probabilità multiday abbastanza alte di vedere un ritracciamento sensibile andiamo a vedere gli altri titoli che avete chiesto STM eccolo qua STM su cui già ci eravamo espressi quest'oggi è scesa sotto a questa che era resistenza e poi è diventata supporto quindi se dovesse confermarsi una chiusura sotto a questi prezzi STM sarebbe da liquidare per chi è long anche il nostro trailing stop dinamico probabilmente è stato colpito mi pare 37,50 se non ricordo male era il livello di prezzo vediamo 37,72 sì quindi posizione chiusa posizione chiusa perché ha fatto un minimo 37,48 quindi la posizione è stata liquidata su STM quindi siamo tornati sotto questo livello qua cruciale che ho evidenziato non entrerei certamente in acquisto adesso su STM attenderei un ritorno eventuale di forza perché se manterrà la chiusura sotto ai 38 potrebbe rimettersi laterale all'interno di questi box vedete questa area di lateralità che più volte l'ha tenuta ingabbiata altro titolo che è stato chiesto allora azimut ma prima ce n'erano degli altri CNH e Tenaris allora vediamo un po' stamattina avete un sacco di domande attenzione ricordatevi anche che oggi è venerdì giornata particolare per andare long multiday quindi fateci un pensierino prima di andare a impostare acquisti è l'unico giorno il venerdì che è inframezzato da due giorni di riposo quindi sempre una giornata differente da tutte le altre sui mercati equity allora Tenaris Tenaris abbiamo visto un ritracciamento ieri quest'oggi non recupera a sufficienza in scia ad esempio a Saipen rimane sotto questa resistenza qui è data dal massimo relativo precedente di 17,13 abbiamo i 17,195 anche come livello successivo da monitorare per cui chi è long secondo me deve gestire in trailing stop con il primo supporto da guardare è sotto ai 16 quindi quest'area qui secondo supporto perché ha posizione di lungo invece sotto ai 14,95 questo è il minimo del 12 dicembre se state aspettando la posizione se state aspettando l'occasione di entrata starei flat affinché non viene rotto in close questo massimo relativo precedente che è questo qui dei 17,13 il primo break è stato un falso break il secondo dovrebbe essere quello buono poi CNH CNH noi siamo flat nella rubrica multi day il titolo è ancora sotto resistenza approcciato questa resistenza con un range abbastanza basso delle candele 16,124 l'area di resistenza e deve romperla in close per poter dare un nuovo input rialzista quindi anche qua starei flat oppure se preferite lavorarlo sulla debolezza andate eventualmente a valutare un acquisto attorno ai 15 euro nel caso in cui dovesse tornarci poi vediamo le ultimissime domande le storie di VT c'è anche per i clienti di directa senza dati end of day allora mi fa una domanda che dovrebbe chiedere a directa perché non glielo so dire credo di sì ma è chiaro che l'explorer lavora su dati end of day quindi se non hai dati end of day devi alimentarlo con qualche altro dato con i dati di directa credo CNH STM abbiamo visto generali pure STE Tenaris anche rimane Azimuth dunque Saipem di Saipem ne abbiamo già parlato abbondantemente adesso non so se era collegato fin dall'inizio è stato il primo titolo di cui abbiamo parlato per gli intensi flussi degli HFT ho anche fatto vedere i miei eseguiti che ho comprato già Saipem con l'HFT flow scanner stamattina e siamo andati a target siamo andati a target anche multi day perché siamo long anche multi day quindi titolo in questo momento ho visto il forte trend siamo entrati 1.28.80 qualche giorno fa già liquidato anche qua a target stop profit stop alzato 1.21.24 target di metà posizione già colpito e cosa c'è da dire il titolo è entrato in ipercomprato di breve ma una forza i flussi sono altissimi su Saipem quindi io ho incrementato la posizione e ripeto quello che ho detto stamattina con Alexandra Georgheva su finanza online per me nel medio periodo è orientata ad arrivare sull'1.53 questo è il primo target multi day di medio periodo di Saipem e poi se dovesse bucare questo massimo potrebbe andare a chiudere questo importante gap e andare addirittura sull'1.90 sta correggendo quell'eccesso di ribasso che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni Saipem e è stata subito dei depreciamenti notevolissimi e adesso da ottobre ha praticamente raddoppiato di prezzo titolo che comunque è per investitori e trader abbastanza esperti vista la volatilità che la caratterizza il primo livello di supporto invece che andrebbe a decretare un'inversione di trend ci auguriamo di no è questo livello qua il massimo su cui si era formato questo key reversal ribassista qui che ha prodotto effetti per diverse sedute con un indebolimento di Saipem questo livello di massimo che è 1,1570 era resistenza adesso è diventato supporto vedete che l'ho tracciato anche sul mio grafico e è importante che si mantenga per evitare che una volta bucato possa determinare un'inversione di trend poco probabile in questo momento però in borsa mai dire mai non ci sono mai certezze mi pare che fosse rimasto solo Azimut poi per oggi ci saluteremo e l'appuntamento sarà rinviato a lunedì Azimut io lo sto aspettando abbiamo cancellato un ordine l'abbiamo rincorsa per diverse sedute quando ha superato i 20,74 dando un ordine nella rubrica multi-day non siamo riusciti a prenderla perché sono i rischi di quando si utilizzano ordine limite e c'è un po' sfuggita a differenza degli altri titoli e adesso per me non vale la pena entrare se si è flat finché non ha dato segnali e sembrerebbe darli in questo momento di consolidamento sopra i 22 era in iper comprato di breve quindi comprarlo è stato cancellato l'ordine perché era troppo rischioso comprarla sopra i 23 ha un po' smaltito ieri questo iper comprato di breve qui c'è un supporto un supportino su questo minimo che è 22,25 quindi potrebbe darsi che decideremo di ricomprarla la prossima di provare a comprare la prossima settimana con un ordine limitato sui 22,20 se dovesse essere detestato oppure attenderemo una violazione della resistenza del massimo che è stato toccato il 18 di gennaio ma deve avvenire non in iper comprato di breve quindi con un RSI scarico e anche magari con buoni volumi a supportare la decisione però l'impostazione è buona quella di Azimut perché se guardiamo il grafico di medio periodo andiamo ad impostare un grafico settimanale oppure comprimiamo quello giornaliero si vede come il titolo abbia bucato la resistenza dei 22 sembrerebbe in fase di consolidamento per una nuova possibile accelerazione per andare ad intercettare questo massimo qui del primo di febbraio del 2022 a 24,19 è importante appunto che ci sia un consolidamento sopra i 22 perché credo che darebbe poi successiva linfa al titolo nelle prossime settimane direi che per oggi abbiamo detto tutto sì Dario abbiamo già visto i risultati della scansione dei titoli con Chi reversa del ribassista e potrete vedere la registrazione tra poco quando andrò a condividerla vi ringrazio per l'attenzione direi che vi saluto anche in video grazie per averci seguito tutta la settimana speriamo credo che vi siano utili queste dirette e buon proseguimento buon weekend e a lunedì